Buongiorno a tutti, benvenuti a questa rassegna stampa del PD. Oggi ci sono io, abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare. Certo le pagine di molti giornali oggi riaprono sulla vicenda Etruria, io voglio dire solo alcune cose, non entrerò nel merito di tutta questa questione anche perché oggi c'è una commissione d'inchiesta parlamentare che sta lavorando su questi temi e c'è la magistratura perché noi abbiamo sempre detto che le inchieste le fanno i giudici. Dopodiché fatemi dire anche questo però insomma mi pare che ecco anche in questo caso si tratti un po' di una montatura, comunque noi siamo dalla parte del tempo e ecco il tempo come dice sempre il segretario sarà galantuomo e la verità verrà fuori. Voglio però precisare alcuni punti che mi sembrano fondamentali in tutta questa vicenda. punto numero uno è stato il partito democratico a volere la commissione d'inchiesta sulle banche che sta lavorando e che sta insomma che sta anche facendo venire a galla alcune realtà. Va detto anche che appunto nel corso delle audizioni è venuto fuori in maniera molto chiara, molto netta come in questa vicenda chi doveva controllare le autorità di vigilanza abbiano fatto venire meno il loro ruolo. E siccome a noi quello che interessa è ristabilire la verità perché questo non succeda più e non si verifichino più altri casi in cui poi alla fine ci vanno di mezzo i risparmiatori, noi vogliamo che veramente venga fatta luce. Cosa che a quanto pare invece non interessa ai 5 stelle che stanno ancora una volta strumentalizzando su questa questione e ecco come rispondiamo? Rispondiamo dicendo che noi andremo avanti. La stessa sottosegretaria Boschi ha insomma ieri in un lungo post ha evidenziato come in questa vicenda si sta facendo di tutto per non ristabilire la verità ma per attaccare lei e per attaccare il partito democratico. Ha anche detto con molta chiarezza che su questa questione chiederà il risarcimento per chi dice il falso e noi andiamo avanti con molta determinazione, con molta serenità, chi ha sbagliato ha pagato e pagherà in futuro. Detto questo andiamo invece sulle questioni che vi dicevo prima sono tante oggi sui giornali e che è interessante approfondire insieme. Sicuramente se vogliamo rimanere sul tema diciamo della politica interna io partirei proprio da Repubblica. Partirei da Repubblica, Repubblica che fa una lunga disamina sui sondaggi per valutare l'effetto grasso su questa nuova formazione politica e sono sondaggi molto divisi fra loro, con risultati molto diversi fra loro. C'è chi stima che l'effetto grasso possa avere un 1% svg questo, un 1% sulla nuova formazione politica in più, c'è chi dà altre stime un po' più alte. C'è un tema però di fondo, noi l'abbiamo detto tante volte, abbiamo fino all'ultimo provato a costruire una proposta di centro-sinistra unitaria perché questo è quello che chiede il nostro elettorato, è evidente che questa nuova formazione politica non fa che, come dire, portare acqua al mulino della destra dei 5 stelle. Questo non è diciamo una notizia, lo sappiamo perfettamente. E niente, io voglio leggervi una parte di questo pezzo di Buzzanche di Giovanna Casadio su Repubblica che dice appunto che i sondaggisti danno risposte molto diverse fra di loro sull'effetto grasso. Il mio leader se li deve guadagnare tutti, mostrandosi però autonomo e trasborsale, non al carro di D'Alema e di Bersani, come insomma abbiamo detto noi più volte. Qui c'è questo pezzo e ce n'è un altro che sempre sul tema vi voglio citare e che lo riporta invece la stampa quando dice 5 stelle tentati dalla Cosa Rossa pronti a un'intesa dopo il voto. I grillini cercano sponde in caso di incarico di governo ma non chiudono alla Lega. Il pezzo apre dicendo guardiamo con attenzione a Pietro Grasso, se i sondaggi si dimostrassero più generosi con lui si potrebbe aprire un bel ragionamento. E questo è quello che vi dicevo prima. Noi pensiamo che invece rispetto ai 5 stelle alla destra ci sia una differenza importante e continueremo come partito democratico a diciamo ad andare avanti a difendere i nostri valori di sinistra. C'è sempre rimanendo in politica interna c'è un altro tema oggi all'ordine del giorno su molti quotidiani e che è il tema del Biotestamento. Come sapete oggi c'è la Capogruppo, c'è la conferenza di Presidenti in Senato che deciderà il calendario dell'Aula. Ecco noi speriamo che venga inserito il Biotestamento, lo chiediamo da tempo, pensiamo che sia una legge di civiltà giusta. Oggi la nazione apre proprio sul Biotestamento e apre con le parole della madre di DJ Fabo, ve la ricorderete tutti la storia. E voglio leggervi un pezzo che mi parere anche molto commovente di Gabriele Canè, dove chiede che la politica si muova, che faccia il suo dovere. C'è una parte molto bella, è forse più facile decidere di morire che dire al proprio figlio vai Fabiano voglio che tu vada. E queste sono le parole che ha pronunciato ieri la madre. Tra l'altro io ve la voglio fare anche vedere la prima pagina perché insomma credo che meriti tutta la nostra attenzione. E dice appunto, riporta le parole della madre e poi dice ci sono tanti importanti aspetti legali nell'angosciante vicenda di DJ Fabo, cieco imprigionato nel suo corpo dopo un incidente stradale, ve lo ricorderete, che si è dato la morte a 39 anni in Svizzera. C'è l'inutile processo, questo lo definisce così, Canè in assise al radicale cappato per istigazione al suicidio, ma c'è la legge sul Biotestamento che potrebbe ripartire in Senato, ultimo squillo di tromba normativo di questa legislatura. Una legge difficile ed effettivamente è così, complessa, in cui si incrociano la tutela della salute e la disponibilità della propria esistenza. L'etica, la religione, un tema su cui anche il Papa ha detto di evitare l'accanimento, cioè evitare l'accanimento terapeutico non è eutanasia, quindi insomma c'è tutto questo tema aperto e è un tema su cui noi riponiamo grande attenzione. Voglio poi passare a altri temi che hanno più a che fare con la politica europea e la politica internazionale. Ieri, come sapete, e andrei subito alla Brexit, ieri come sapete c'è stato l'incontro fra la Premier britannica Theresa May e Juncker per chiudere la prima fase dei negoziati, quella che deve sciogliere ancora alcuni nodi, per aprire poi la seconda fase che è quella invece delle relazioni future fra Gran Bretagna e Unione Europea. Sia chiaro, quella della Brexit è una pagina che noi non avremmo mai voluto vedere aperta da europeisti, però prendiamo atto del risultato di ormai dell'anno scorso del referendum britannico e in questo momento quello che è importante è insomma riuscire a trovare una strada giusta. Io su questo voglio prendere il Corriere della Sera, tra l'altro un ampio spazio lo dedica a questo tema, lo dedica anche il Messaggero con ben due pagine molto approfondite e molto pertinenti, però voglio prendere il Corriere della Sera perché il Corriere della Sera fa un po' riassunto delle tappe che sono diciamo dei nodi che sono ancora aperti in tutta questa prima fase negoziale e uno dei nodi è sicuramente i diritti da garantire ai 3 milioni di cittadini europei residenti in Gran Bretagna, tra cui 500 mila italiani, ricordiamolo. Teresa May ha aperto alla richiesta di mantenere un ruolo per la Corte di Giustizia e Wain, insomma comunque ancora si sta trattando su questo. Si sta raggiungendo un altro dei nodi aperti è l'accordo sul conto che Londra deve pagare per il divorzio da Bruxelles e anche su questo rispetto alle proposte iniziali di Teresa May si sta facendo un passo importante anche se non ancora il passo chiesto dall'Europa e c'è tutta la questione della definizione dei confini fra l'Irlanda che resta nell'Unione Europea l'Irlanda del Nord che ne esce. Londra non accetta per Belfast una permanenza nel mercato unico come invece è stato richiesto da Bruxelles. Infatti il Corriere della Sera titola proprio Brexit l'Irlanda del Nord fa saltare l'accordo. Progressi nei negoziati perché l'abbiamo detto alcuni progressi sono stati fatti ma resta il nodo del confine dell'isola. La premia britannica dice sono fiduciosa e il pezzo di Ivo Caizzi apre proprio così. Restano problemi negoziali da risolvere per cercare di concludere la prima fase della trattativa per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea al prossimo summit dei capi di Stato e di Governo in programma il 15 dicembre prossimo. E noi insomma ci aspettiamo e attendiamo che questa prima fase negoziale si concluda perché come dicevo prima è fondamentale che si apra la seconda fase che è la fase dei rapporti futuri fra proprio la Gran Bretagna e l'Unione Europea e quindi le condizioni alle quali la Gran Bretagna può restare all'interno del mercato unico. C'è poi tutto un altro tema a cui non è dato un grandissimo spazio sui giornali devo dire ma che insomma a mio parere è molto importante e che è la nomina del nuovo presidente dell'Eurogruppo che va a sostituire Dijsselblom che insomma in Italia è noto per le sue frasi in Italia non solo è noto per le sue frasi abbastanza diciamo irriverenti nei confronti del nostro paese non solo cioè che noi spendiamo i soldi in donne non mi ricordo in che cosa. Bene allora la pagina Dijsselblom si chiude si chiuderà a gennaio però ieri è stato nominato è stato eletto il successore che è Centeno che è un portoghese un portoghese socialista perché c'era anche insomma questo ordine di problemi cioè garantire ai socialisti almeno la presidenza di uno dei più importanti vertici delle istituzioni europee che oggi sono tutte in mano ai popolari a partire dal Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio e quindi ecco la nomina di Centeno però non è importante solo perché è un socialista è importante perché finalmente ci auguriamo che si possa fare un passo in avanti rispetto alle politiche dell'austerity che tanto in Europa stiamo combattendo e su questo io voglio prendervi sempre Repubblica, sempre Repubblica adesso la prendiamo, sempre Repubblica che è quella che di fatto è quella che di fatto dedica più attenzione a questo a questo tema anche se insomma l'attenzione che gli dedica è a pagina 28 e vi leggo proprio l'Eurogruppo svolta a sinistra arriva l'ante austerity Centeno e il pezzo del corrispondente Alberto D'Argenio entra molto nel merito del racconto ieri su questa diciamo nomina su questa elezione e parte attacca dicendo è Mario Centeno Centeno nuovo presidente dell'Eurogruppo il professore portoghese ministro indipendente nel governo di sinistra di Antonio Costa guiderà per due anni e mezzo il tavolo dei ministri finanziari della moneta unica cercherò il consenso perché l'Europa persegue nel percorso di crescita e calo della disoccupazione ieri infatti ha parlato come prima dichiarazione ha parlato di una crescita inclusiva per l'Europa quindi non tagli e basta una crescita che inglobi che crescita appunto è inclusiva quindi dicevo percorso di crescita e calo della disoccupazione ha fermato a caldo l'uomo che in due anni è stato capace di rilanciare l'economia di Lisbona prostrata dal programma di austerità impostole proprio dall'Eurogruppo nel 2011 tenendo in equilibrio i conti ma anche evitando di tagliare l'impossibile insomma un lavoro che gli ha fatto guadagnare il soprannome di Ronaldo dell'Ecofin ma con Centeno il fronte del sud spera di dare un calcio a rigore per cui insomma noi riponiamo grandi grandi aspettative su questa nuova figura per un cambio di passo nella politica economica dell'Unione ricordo che grazie al gruppo dei socialisti democratici grazie al partito democratico nel semestre di presidenza italiana noi qualche risultato l'abbiamo già portato a casa che è quello della comunicazione sulla flessibilità per l'interpretazione del patto di flessibilità ed è quello importantissimo di un piano di investimenti su cui ci sarà da discutere ci sarebbe da discutere a lungo sull'efficacia ma sicuramente un punto è stato sancito cioè che oggi c'è bisogno di investimenti pubblici e privati vi sto parlando del piano Juncker Juncker che peraltro domani presenterà il progetto di riforma dell'eurozona e anche lì staremo a vedere che cosa succederà per rimanere sempre sulle questioni diciamo europee poi passiamo a quelle internazionali con Trump sulle questioni europee c'è un'altra notizia importante a cui anche qui dedicano non molto spazio i giornali e che è la notizia dei mandanti materiali, scusate, dell'omicidio della giornalista maltese Caruana Galizia e pare che l'FBI sia riuscita a trovare diciamo gli esecutori materiali di quella terribile strage su questo, sempre su questo vi voglio leggere un pezzo sempre su Repubblica prima di passare a Trump, scusate, e tra l'altro Repubblica invece rispetto ad altri giornali dà una rilevanza che è la rilevanza giusta che merita questa notizia arresti a Malta, i killer di Daphne traditi dai telefonini e spiega un po' come si è arrivati all'individuazione di questi personaggi, dice gli assassini materiali della giornalista Daphne Caruana Galizia appunto sono stati trovati dall'FBI il pomeriggio del 16 ottobre scorso, pochi minuti prima che la Peugeot Bianca 108 a noleggio su cui Daphne viaggiava venisse dilaniata da una potente carica di plastico collocata sotto la scocca dell'auto, tre telefonini cellulari agganciati dalle celle di Trick, la località dove si è consumato l'attentato comunicano fra loro. E niente, dice che se la prova forense lavorata dall'FBI e sembra lasciare poche margini di dubbio sulle responsabilità materiali, il discorso si fa più complesso e scivoloso quando si passa ai mandanti o al movente. Al momento, dice un investigatore di vertice maltese, riteniamo plausibile che il movente sia in ciò che Daphne Galuana Galizia aveva pubblicamente denunciato nel suo lavoro di giornalista sul traffico clandestino di petroglio proveniente dalla Libia sul narcotraffico e il mercato delle armi. Non è ancora chiaro, al contrario, se gli autori materiali dell'attentato abbiano agito su commissione o su iniziativa propria. Ecco, ripeto, questo è un caso che in Europa ha sconvolto molto, tant'è che noi abbiamo anche fatto una risoluzione al Parlamento europeo, abbiamo dedicato una sala, la sala stampa a questa giornalista, ricorda il caso di tanti giornalisti morti per il loro lavoro di fatto, per le verità che stavano portando fuori. Purtroppo anche in Italia abbiamo nomi eccellenti che, insomma, senza dover ricordare l'aria Alpi, però nomi eccellenti di giornalisti che purtroppo hanno pagato con la loro vita la onestà per la loro professione. Andiamo poi su, passiamo invece a, per concludere, passiamo invece alla politica internazionale, a Trump, che ieri dopo anni di battaglia, e anche qui ci sono la notizia ripresa su molti quotidiani, voglio però sempre rimanere oggi su Repubblica perché mi sembra che sia quello che, insomma, lo tratta meglio, con un bel pezzo affidato al corrispondente Federico Rampini e che parla del bando agli immigrati. La seconda vittoria di Trump stavolta alla Corte Suprema e vi ricorderete dall'inizio del suo mandato il presidente Trump ha cercato a più riprese di varare un provvedimento con divieti temporanei di ingresso negli USA per cittadini di nazioni considerate a rischio terrorismo. Prima sono stati presi di mira sette paesi, poi sei a maggioranza musulmana, a cui Trump ha giunto Venezuela e Corea del Nord per affrancarsi dall'accusa di discriminazione religiosa. Ieri c'è stato il via libera da parte della Corte Suprema e io vi voglio leggere proprio una parte del pezzo di Rampini in cui dice la Corte Suprema è il massimo organo della giustizia americana, ha deciso che Trump ha diritto di chiudere le frontiere ad alcune categorie di stranieri se ritenesse che sia necessario per tutelare la sicurezza dei cittadini. Poi la stessa Corte si riserva di entrare nel merito valutando cioè la questione dell'eventuale discriminazione religiosa. Ecco questo mi sembrava che fosse giusto evidenziarlo. Io vi saluto qui, vi voglio però ricordare l'appuntamento che abbiamo tutti insieme il 9 di dicembre a Como in seguito ai fatti che sono successi, insomma i fatti incresciosi che sono successi. Su questo prima di chiuderve vi voglio anche ricordare una bella intervista a Andrea Orlando sempre su Repubblica Oggi, scusatemi, adesso ve la trovo, ve la trovo e la commentiamo velocemente insieme, eccola qua. Andrea Orlando, la legge consente già di sciogliere i gruppi neonazisti troppo poche le incriminazioni ed è un'intervista che entra nel merito del perché sono troppo poche le incriminazioni. Alla domanda precisa Ministro Orlando è favorevole allo scioglimento dei gruppi neofascisti e neonazisti? La risposta è sì, la normativa spinge già in quella direzione. Quando ci sono messaggi che richiamano parole d'ordine del fascismo e per di più vengono veicolati con l'uso della forza e dell'intimidazione deve intervenire lo scioglimento. Poi c'è un'altra domanda in fondo che viene fatta sempre al Ministro, l'appello di Repubblica per la messa al bando dei gruppi fascisti raccoglie l'adesione di partiti e associazioni. Come procedere secondo lei? Dice la direzione giusta. Per fermare l'onda nera ci vuole uno schieramento largo e compatto che vada oltre la sinistra, oltre le distanze politiche fra i partiti. Ho apprezzato le parole di condanna di Maroni e di Bossi e l'adesione del candidato alla presidenza della Regione di 5 Stelle. Quindi noi ci vedremo il 9, ci vedremo il 9 di dicembre a Como proprio perché vogliamo che si tenga alta l'attenzione verso queste formazioni che stanno aumentando di numero e noi non dobbiamo mai derogare i nostri valori dell'antifascismo e della libertà di opinione. Niente, io vi saluto qui. Oggi peraltro il viaggio del nostro segretario procede non sul treno, ma procede in Sardegna e poi si concluderà in Sicilia. In attesa di vedere sui social come questa trasferta in mezzo ai problemi veri della gente, ad ascoltare le persone, ad ascoltare le testimonianze, ecco in attesa di vedere sui social come si svolgerà questa bella giornata, vi aspetto il 9 così come ci ha chiesto Walter Veltroni, noi saremo in tanti quel giorno. Grazie e buona giornata. Grazie Grazie